buongiorno amici oggi facciamo le girelle alla crema innanzitutto prepariamo la crema in questa sottola ci mettiamo zucchero farina boba e micchiamo ci mettiamo latte caldo e micchiamo latte micchiamo e poi le cucina alla peggio la calda io sono poco piccola lo fa la mia mamma quando la crema è cotta diventa così prendiamo la pasta a foglia e lo dividiamo scendiamo un po' di crema e la bagniamo con la patolina ci mettiamo il cioccolato ci mettiamo il cioccolato adesso le pieghiamo così e piacciamo un po' ecco fatto! adesso le rotoliamo così d'uomo ci mettiamo un po' di uovo e mettiamo un po' di uovo Adesso le mettiamo al forno Ecco, le vieti della la crema sono pronte Grazie per i like Un bacio da Cefalora Seguitemi